Innamoramento di Orlando, libro secondo, canto secondo, ottava 51. Ma già non sai cambiare nei due germani, ciascuno è bene a Dio raccomandato. Avanti a sé scontranno in su quei piani un cavaliero a piedi e tutto armato. Erano da lui ancor tanto lontani che non l'avrebbero mai raffigurato, ma poi dirò vi apponto questo fatto, nel canto terzo, che nel presente più di lor non tratto. E tornovi a contare di quel castello, qual era assediato da Marfisa. Chiarione ogni giorno era al Zambello, con gli altri che la storia vi divisa. La regina cacciava or questo or quello, ma non l'aspettava alcun per nulla guisa. Già tutti quanti, eccetto Sacripante, l'aviam provata nel tempo davante. Esso non era della Rocca uscito, però che nella prima questione di una setta fu alquanto ferito, sì che non può vestir suo guarnisone. Già tutto un mese integro era compito, poiché qua giunto fu il re Galafrone. Quando tutti e baroni una mattina saltarne il campo di quella regina, cridan la gente ad arme, tutte quante, ciascun di quei baroni sembra leone, il re Ballano a tutti vien davanti, poi Antifor e Oberto e Chiarione, il re Adriano e dietro a Sacripante. Di quella gente fa destruzione, bene a Cagion ciascun de ver paura, tutta è coperta a morti la pianura. L'un dopo l'altro de quei baron fieri, venien di qua di là gente tagliando i scudi, hanno alle spalle, bon guerreri, e ciascuno due mammena del brando vanno a terra, pedoni, cavaliere, ognom, davanti a lor, fugge tremando, rotti e spezzati vanno a gran furore. Ecco Marfisa giunta quel rumore. Giunse alla zuffa la dama dirata, già non bisogna tempo a lei guarnire, però che sempre si trova armata, avendo giurato di restare così fino a quando non avesse ucciso Agricane, Gradasso e Carlo Magno. Quando Ballano la vide venire, che ben sapea sua forza smisurata, in altra parte mostra di ferire, diciamo che fa finta di niente per evitare di incontrarsi con Marfisa. Questi eroi non sono poi tutti squadrati e uniformi. E più gli piace ciascun altro loco che la presenza di quel cor di fuoco. Già tutti insieme avevano prima ordinato che l'un con l'altro si debba aiutare, perché la dama l'anima dirato e contra tutti volse vendicare. Come Ballano dunque fu voltato, lei prende dietro a quella speronare gridando volta, volta, camfellone, che oggi non giongi tu dentro al girone. Così gridando, il segue per il piano, ma il forte antifor del Barossia di dietro la ferisce ad ambe mano. Lei non mostra curar e tira via. Disposta è di pigliare il re Ballano, che ha sprombattuti, innanzi le fuggia, viene di traverso Berta gran tempesta, e lei ferisce al mezzo della testa. Non si cura la dama niente, che dietro al re Ballano in tutte e volta, orchiareone, aguisa di serpente, mena due mani, e nell'elmo accolta, ma lei non cura il colpo e non lo sente, tutta a seguir Ballano. E lei disciolta, lui, che alle spalle sente la regina, voltasi e mena un colpo a gran ruina. Mena due mano alle redini l'assa, gionse nel scudo alla dama rubesta, come una pasta per traverso il passa. E mezzo il tiratera gran tempesta, lei gionse a lui nell'elmo e lo fracassa, e ferilla spramente nella testa, sì come morto la batte disteso dalle sue genti incontinente e preso. Ma non vi pone in dugio la donzella per la campagna caccia a Chiarione? Ciascun degli altri addosso alle martella, non gli stima lei tutti un vilbottone. Già ha tolto Chiarione a fuor di sella e via lo manda presso al pavaglione. Questo, veggendo quel di Albarossia, ha più poter davanti, li fuggia. Ma lei lo gionse nell'elmo la ferra. Al suo rispetto lo trasse le arcione, e poi tra le sue genti il getta a terra come fosse una palla di cottone. Or comincia a finirsi la gran guerra, però che il re Adriano è già a pregione, il re sacripante qui non si ritrova, altrove abatte e fa mirabil prova. Oberto da leon, quel sire arguto, mette a sconfitta sol tutta la nostra schiera. Marfisa da lontan l'ebbe veduto, sprona gli addosso alla donzella fiera, da cima al fondo gli divise il scuto e fende sotto il sbergo ogni lamiera e magia di suppa tutta disarmando sino al carnefie toccare il brando. Quel cavaliere turbato oltre misura lascia a due mano un gran colpo di spada. Dico tal cosa la dama non cura ne parve a ponto che fosse toccata che l'elmo avea in capo e l'armatura tutta era per incanto fabbricata. Ma lei contra di Oberto s'abbandona sopra dell'elmo una gran colpo gli dona. Con tal roina quel colpo discende che l'elmo non la resta di niente, la fronte a mezzo del naso tutta fende, il brando calla giù tra dente e dente e l'arma e busto taglia e ciò che prende meno a fracasso la spada tagliente nemmai si ferma in sine sull'arcione cadde in due parte. Oberto dal leone. È proprio vero? Questa volta un prode guerriero è morto. Re sacripante col brando a due mano fende e nemice e taglia per traverso tuttavia combattendo di lontano ebbe veduto quel colpo diverso quando Oberto in due parte cadde al piano. Non all'animo lui per questo perso ma speronando con molta roina col brando in mano affronta la regina. E nella gionta un gran colpo limena non ebbe mai la dama uno altro tale che quasi si estordì con grave pena. Par che il sacripante metta l'alene l'estrema possanza e l'altalena della regina a questo punto vale tant'è veloce quel baron soprano che ciascun colpo della dama è vano. Egli era tanto presto quel guerrero che a lei girava intorno come uccello e schiffava i suoi colpi de leggero cioè schivava facilmente i suoi colpi. Ferendo spesso a lei con gran flaggello frontalate avea nome quel destriero qual fucco tanto destro e tanto isnello che quando sacripante a quella in cima gli uomini tutti il mondo non gli stima. quel buon destriero che fu senza magagna e si compito che nulla gli manca baglio era tutta scorza di castagna. Cioè un destriero baglia scorza di castagna riecheggerà poi Ariosto nel quindicesimo canto del furioso. Massina al naso aveva la fronte bianca da cui il nome di frontalate. Nacqua granata nel regno di Spagna la testa schietta e grossa ciascuna anca la coda è come bionda terravano e da tre piedi è quel destier balzano. Quando gli è sopra sacripante armato da aspettare tutto il mondo si dà vanto. Ben ha di lui bisogno in questo lato nemmai nella sua vita ne ebbe tanto da poiché con Marfisa essi affrontato. La suffa vi dirò nell'altro canto che per l'uno e per l'altro a non mentire assai fu più che far ch'io non so dire. E finisce così il canto secondo del secondo libro dell'innamoramento di Orlando. Per l'innamoramento Grazie a tutti.